Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video, oggi nuovo svuota la spesa e guardate quanto sono natalizia con questo maglioncino con le rennine E direi che tra l'altro non andiamo troppo lontano dal tema di questo svuota la spesa che facciamo oggi Perché raga, sono andata da Lidl, che bello, che gioia, che meraviglia Sono andata da Lidl, anche se sapevo che non avrei proprio comprato pochissime cose e farmela a piedi da Lidl a qua, insomma non è proprio una passeggiata Però mi sono detta dai, ho bisogno, sento la necessità di fare questa cosa, quindi sono andata Ho preso qualcosina, avrei preferito prendere meno perché poi veramente la camminata è stata ardua Però comunque sono soddisfatta, e perché dicevo che c'entra il Natale? Perché sono arrivate un sacco di cosine natalizie da Lidl e io ho preso alcune cose della linea del cibo per Natale Soprattutto della linea del cibo, ma anche qualcosina che non riguarda il cibo Quindi direi di iniziare e vi faccio vedere innanzitutto ciò che ho preso nel reparto surgelati Allora, ho preso queste che sono le duchesse, queste, come possiamo chiamarle? Queste cose di patate che dovrebbero essere tipo delle crocchette alla fine Croccanti fuori, morbide dentro, e non sapevo che fossero vegane Sinceramente io quando ho controllato gli ingredienti, li ho controllati proprio con speranze zero Convinte di trovare all'interno tipo latte e cose del genere Invece no raga, patate, olio, sale, cipolla in polvere, cose del genere Ma niente di origine animale, quindi sono super contenta Le ho prese e non vedo l'ora di provarle Poi ho preso dei funghi misti, sì raga surgelati, perché io mi trovo più comoda con quelli surgelati E io prendo sempre quelli con i funghi porcini, perché scusatemi, cioè va bene, ok, costano di più Però se mi ci metti il porcino io non ti dico di no E mi servivano, perché devo fare una ricetta tipo da una vita e mezza Ma ogni volta non ho mai funghi per poterla fare Poi ho preso i nuggets, questi super mega buonissimi, meravigliosi, fantastici Sembrano proprio di pollo raga, questi sono veramente mega buoni Niente a che vedere con quelli nel reparto frigo Cioè questi surgelati sono a un livello decisamente superiore Molto buoni anche questi, che sono invece quelli ai broccoli Meno entusiasmanti degli altri, però comunque buoni Per cambiare un po' ci sta E poi, di questo vi faccio vedere solo le scatole, perché non mi ci stava la roba in freezer Ho preso due pizze vegane, mi hanno rimesso questa che a me sinceramente piace raga Tra le tre, se non sbaglio, che mettono a volte da Lidl Questa è proprio la mia preferita, quindi ne ho prese due E poi, la signora farinata, assolutamente sì Questa non so come mai da Lidl non me la mettono fissa, dannazione Io la esigo, la voglio, ne ho proprio necessità, ok È troppo buona, troppo buona, quindi quando la trovo io la prendo Non c'è niente di più comodo di avere la farinata surgelata nel freezer di casa Molto molto bene E basta, in realtà, questi sono i surgelati Passiamo ora alle cose nel reparto Frigorifero Ho preso ovviamente il mio amato tofu Questo è quello al basilico Cioè io ormai non prendo più il tofu classico Questo per me è diventato il tofu classico L'idea di prendere un qualsiasi altro tofu in qualsiasi altro supermercato Mi uccide Non lo faccio, non ce la faccio, è più forte di me E poi ho preso ovviamente lui Che è il principe di tutti i tofu del mondo e dell'universo Ovvero il tofu affumicato Mamma mia, ma che mondo sarebbe senza questo tofu? Cioè se voi avete la possibilità di andare a comprare questo tofu da Lidl Fatelo, cioè non fatevi del male continuando a comprare altre tipologie di tofu Che veramente sono immangiabili Andate su questo di Vemondo Non ve ne pentirete Soprattutto non tornerete più indietro Poi ho preso due hummus Ovviamente quello classico Questo di Lidl non è affatto male Ma io preferisco di gran lunga la versione piccante Ragazzi, questo è qualcosa di indescrivibile Che poi secondo me non è neanche proprio piccante piccante Cioè considerate che io ho una tolleranza zero nei confronti del piccante No vabbè, zero no, ma tipo due E questo più che altro non lo so Quel qualcosa in più che mi piace Mi gusta, mucho, buono Quindi li ho presi entrambi Poi vabbè, che spesa sarebbe senza questa? Io penso veramente di non essere mai andata a Lidl E di essere uscita senza aver preso almeno una confezione di questo Di formaggio filante vegano per pizza Cioè non credo proprio di averlo mai fatto nella vita Anche perché sull'Ida, eh sì, lo prendo tanto Lo utilizzo sempre Lo uso sulla pizza ma anche in altre ricette, altre cose Quindi assolutamente cos'è la mia vita senza questo? Non sopra dirvelo Poi ho preso questi qui che sono gli yogurt a base di cocco Questi voleva provarli Gabri Io sinceramente, sapete che io resetto Cioè vivere la mia vita vuol dire vivere tutto come se fosse sempre la prima volta per me Cioè perché io resetto E quindi questi qua alla mora mi sembra di non averli provati Mi sembra Non sono male perché non sono male Però non è la tipologia di yogurt vegano che a me piace Perché manca proprio quella componente acidula che io cerco Sono un po' troppo dolcini Però vabbè, così vediamo Magari questi alla mora mi sconvolgono Poi a proposito di io che resetto le cose Quindi magari le ho già provate Anzi sicuramente queste ragazzi le ho già provate Sono le polpette di Lidl Figurati se io non le ho mai provate Non riesco a ricordarmi se mi piacciono oppure no Ma sono sicura di fare questo pensiero Ogni volta che le prendo Cioè io probabilmente le ho prese tipo dieci volte Ogni volta prendendole pensavo Ma chissà se le ho già provate Anzi forse sì ma non mi ricordo come era Vabbè dai io le prendo Cioè ragazzi non lo so ho questo problema Perché poi c'è la versione quella Che mettono ogni tanto Sempre nelle settimane vegane Ogni tanto anche così occasionalmente E quelle so bene il sapore che hanno Mi piacciono Soprattutto quelle al pomodoro buonissime Queste non mi rimangono Non mi rimangono quindi probabilmente Non so niente di che Vabbè comunque Poi ho preso questa novità mutti Che mi ispirano un poco sinceramente Ne ho prese due confezioni Ed è praticamente questa pomodorata Mi fa molto ridere il nome Con farro e lenticchie E quindi niente tipo questa zuppettina Il pomodoro Che dire mi ispira Mi ispira Se c'è una zuppa se c'è del farro Se ci sono delle lenticchie Io vado abbastanza sul sicuro Mi sembra anche una bella porzione raga Cioè non so se notate Vediamo mi sa che sarà la mia cena di stasera Perché non posso aspettare Voglio troppo provarlo Secondo me non ci deluderà Poi come ultima cosa del reparto frigo Credo se non ho sbagliato a imbustare le cose Abbiamo i medaglioni ripieni Vabbè anche questi insomma Non è la prima volta che li vediamo Quelli ai funghi Che a me onestamente piacciono molto E poi questi invece con i broccoli E le olive nere Avete visto quante cose i broccoli che ho preso Sia i nuggets che i medaglioni Che persona adulta Mamma mia che persona adulta Questi carini buoni sinceramente mi piacciono Ogni tanto li prendo Ok passiamo oltre E arriviamo ora un po' Alla parte un pochino più interessante Perché finora di cose che c'entrano con il Natale Non c'è nulla Cioè hanno messo soltanto Quelle cose di patate Le duchesse Che sono nella linea di Natale E anche la farinata Se non sbaglio l'hanno messa Sempre nella linea di Natale Per il resto insomma Tutte cose che avete già visto rivisto Ma quindi Passiamo a qualcosa di più interessante Ci sarà un misto di cibo E non cibo Allora partiamo da questo Raga Questo io spero si capisca È un maglioncino per cani E l'ho preso per Nacho Non per Ammit Perché Ammit Cioè veramente Sarebbe una tortura per lei Lei odia indossare queste cose qua Poi è a pelo lungo Al sottopelo Cioè non ha bisogno Non ha freddo Mentre Nacho Poverino Che avendo il pelino curtino È sempre infreddolito E adora indossare queste cose Quindi raga Potevo io esimermi Dal prendergli questo maglioncino natalizio Scusatemi Ossessionata È meraviglia Cioè ma guardate i disegni poi Guardateli Con queste volpine nataline Con tutti gli alberelli Fiocchettini di neve Dai è troppo bello raga Mi piace un sacco Sinceramente Best acquisto di oggi Tra l'altro Le cose di Natale Queste qua Sono arrivate Nei negozi giovedì Io ho fatto la spesa oggi Che è sabato Quindi sono passate solo due giorni Raga Svaliggiato Follia Sono stata ancora fortunata Sinceramente Che ho trovato qualcosa Come ad esempio Questi calzini natalini E dai raga Cioè per forza Per forza Tra l'altro questi sono Per bambini E infatti c'è proprio scritto Calze termiche per bambini Però controllando la taglia A me vanno Cioè io in passato da Lidl Ho comprato calzini per bambini Anche di taglie non mie Tipo 32-35 Comunque mi andavano Quindi questi che sono 35-38 Sicuramente mi vanno Io un 37 E appunto ho preso Questi qua rosa Con l'alperello Dai che carini Non ce la faccio E poi questi Con questa texture Tipo candy cane Se vogliamo Molto carini Molto molto carini Sono molto soddisfatta Ma non sono gli unici Che ho preso Perché sempre nel reparto Bambini Ho preso anche questi Scusate ma Le cose per bambini Sono sempre più belle Delle cose per adulti Cioè io questa cosa Non la capirò mai Vabbè Questi urlavano il mio nome Raga I dinosauri natalizi Ma stiamo scherzando Pronto E poi qua dietro C'erano anche questi Spero si veda Spero si capisca Si dovrebbe vedersi abbastanza Che sono sempre con I dinosauri Però un pochino più scuri E un po' più stile Maglione natalizio Già dai Che carini Che carini E sono sempre Calze termiche per bambini Misura 35-38 Sono belli spessi Questi Cavolo Se fanno una bella funzione termica Mi sa che poi li uso anche Nei mesi non natalizi Belli raga Molto molto belli Ultime calzini Che vi faccio vedere Poi giuro Cambiamo tema Sono questi qua E questi invece Li ho presi per Gabriel Li ha scelti lui A me sinceramente Non facevano impazzire Però erano quelli Con i canetti sopra Insomma voleva questi Poi dietro ci sono anche questi Che sono invece Più semplici Con la classica stampa Da maglione natalizio Però effettivamente Questi con i canetti Candy cane Sono carini dai Anche se sono per adulti Devo dire che sono carini Però non sono termici Perché c'è solo calze natalizie Da uomo E basta Peccato Perché fossero stati termici Sarebbero stati sicuramente Più interessanti Quindi io non mi pento Di aver scelto quelli Per bambini Ma andiamo avanti E adesso vi faccio vedere Soltanto cose di cibo Che fanno parte appunto Della linea natalizia E poi non c'è nient'altro Allora ho preso Questi tarallini Al pomodoro E basilico E basilico E basilico Scusate Origano Vabbè non so neanche più leggere Sono molto piccoli Perché sono 200 grammi Quindi non è che magari Proprio sia un affare Ecco Però volevo provarli Così Per cambiare linea Per cambiare anche gusto Perché pomodoro E origano Non li avevo mai provati Io amo Vivo per i taralli Non riuscivo a dire di no Anche perché l'altra versione Che c'era Era con la pancetta Quindi no grazie Poi Mi sono presa Giusto qualche patè Io sono veramente Un'appassionata di patè Mi piacciono tantissimo raga E quando li vedo Non riesco a dire di no Quindi Ho deciso di prendere Questo patè Alle cipolle rosse di tropea Ma come fai a resistere Cioè mi metti Una cosa alle cipolle Tu veramente riusciresti A dire di no Io sinceramente Mi ci fiondo Subito Poi 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 Ho preso Questo se non sbaglio L'avevo preso anche l'anno scorso Che è un patè di funghi porcini O l'anno scorso Due anni fa Con cui io sono sicura Di averlo già preso questo E anche qui Mamma mia Funghi porcini Mi hai conquistata Infine Ho deciso di prendere Anche questo patè di carciofi Uno perché A me i carciofi Piacciono tantissimo Quindi non dubito Che questo mi piacerà E poi perché c'è Honestly Gab Che su Instagram L'ha super consigliato Chi sono io Per non fidarmi Dei suoi consigli Quindi lo proverò Poi ho preso Anche un sughetto Un sugo pronto Con castagne e funghi Questa cosa Mi ispirava troppo Cioè è troppo strana Non ho mai provato Questo tipo di abbinamento Quindi vediamo Vediamo Io mi sento così Lanciata Voglio provare Ho bisogno di nuovi gusti Di nuove cose Quindi dai Questi sono tutti Della linea deluxe Infine Sempre della linea deluxe Ho preso questo dolcino Che onesta Non capisco Se mi ispira O mi terrorizza Perché l'aspetto Penso che saremo tutti d'accordo Nel dire che non è bello Cioè nel senso È proprio brutto da vedere Però si tratta di un dolce Con datteri e noci E raga Gli ingredienti Sono proprio Datteri e noci E fine Eccolo qua 90% datteri 10% noci Quindi proprio tutto insieme Pressato E diventa questa cosa qua Vi saprò dire sinceramente Non può non essere buono Datteri e noci insieme Dai Se andiamo oltre l'aspetto Potrebbe essere carino E fine raga Tutto qui Quindi questa è stata La mia spesa di oggi Sono contenta Sono molto molto soddisfatta Ho comunque preso fondamentalmente cose Che mi servivano Qualche sfizio Qualche cosina superflua Ma va bene così È Natale dai Cioè in realtà manca tipo un mese È Natale Però per me è già Natale Avete capito Giunti a questo punto del video Direi di scegliere un bel hashtag Della fine Da scrivere qui sotto nei commenti E l'hashtag della fine potrebbe essere Ce l'ho raga Facciamo hashtag Si avvicina Il Natale raga Sì si avvicina Io sono troppo contenta Non vedo l'ora di festeggiare Anche se Non so in quale casa sarò Mi auguro già in quella nuova Ma boh vabbè vediamo Quindi sì Hashtag si avvicina Scrivetelo qui sotto nei commenti Io vi ricordo che in descrizione Vi lascio tutti i link Di tutti i miei social Così se vi va Potete seguirmi anche lì Vi ringrazio tantissimo Come sempre Per essere rimasti con me Anche in questo video E noi ci vediamo al prossimo Ciao